Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi vi presento un bellissimo appartamento a Roma, quartiere Montesagro, piazza Conca d'Oro in via Val di Cogne. Parliamo di un immobile che è stato ristrutturato di recente, di circa 90 metri quadri, in una palazzina di 5 piani, in ottimo stato di conservazione interna e esterna, dotata di ascensore e senza servizio di portineria. Attraverso una porta blindata accediamo a un ampio e comodo ingresso nel quale sono presenti anche degli armadi e da qui è possibile accedere al comodo salone singolo dotato di balcone. Attraverso un disimpegno accediamo alla cucina abitabile e alle due camme da letto entrambe matrimoniali. nelle quali una è dotata di cabina armadio ed è servita dal secondo balcone dell'immobile. Sono presenti due bagni di cui uno molto spazioso con vasca e un secondo bagno un po' più piccolo idoneo per gli ospiti. L'appartamento è stato completamente ristrutturato di recente, risulta molto silenzioso e si trova in ottimo stato di conservazione. Abbiamo visitato un delizioso appartamento trilocale con cucina abitabile, tripla esposizione principalmente esterna, dotato di due balconi e molto vicino alla fermata della metropolitana, quindi comodissimo per gli spostamenti in tutta Roma. L'immobile è dotato di, grazie a una recente ristrutturazione, è dotato di infissi nuovi in vetrocamera con zanzariere, inoltre abbiamo riscaldamento centralizzato e aria condizionata. Le spese di condominio ammontano a circa 80 euro al mese e la rendita cadastrale è di 1.334,5 centesimi. Potete vedere foto, video e platimetrie di questo bellissimo appartamento sul nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani. Grazie a tutti.